Ciao ragazzi e ciao ragazzi, nuovo video! Allora, in questo make-up tutorial vi faccio vedere brevemente come realizzare questo look questo look dei toni freddi, però secondo me molto indicato, molto adatto per questa stagione quindi da indossare con un abitino, insomma, per essere più cool allora, è un make-up tutorial particolare perché è veramente molto molto economico nel senso che comunque in questo video utilizzerò dei prodotti veramente molto economici diciamo che si aggirano intorno ai 10 euro, non di più comunque nel box informazioni vi scriverò tutti i prodotti che ho utilizzato per realizzare questo make-up in più ovviamente con i relativi prezzi se voi avete delle curiosità, se volete delle informazioni in particolare se volete sapere dove reperire questi prodotti, tra l'altro molto semplici da reperire scrivetemelo in maniera tale che posso magari rispondere a tutte le vostre domande ragazzi, spero che questo make-up tutorial vi piaccia e fatemi sapere cosa ne pensate presto! Ciao! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.